Ciao Pilatessi e Pilatesse e benvenuti o bentornati ad una nuova lezione di Pilates con Giorgia. Oggi voglio parlarvi di come possiamo modificare alcuni movimenti all'interno delle lezioni per 1. non farci male, 2. diminuire eventuali fastidi che possiamo provare durante un particolare esercizio, quindi renderlo più facile, più abbordabile per noi, e 3. anche per continuare a mantenere, a stare nella lezione senza doverla interrompere solo perché magari ci sentiamo scomodi o limitati in certi movimenti. Quindi vediamo i problemi più comuni. Quando siamo distesi ci sono moltissimi esercizi della pratica del Pilates che prevedono entrambe le gambe sollevate da terra. Quindi, per esempio, anche proprio le basi di esercizi di preparazione al Pilates prevedono che tutte e due le gambe siano sollevate da terra. Però questo, soprattutto se abbiamo le gambe a 90 gradi, ci porta spesso e volentieri a fare molta fatica nel mantenere la zona lombare in una posizione comoda e ci porta quindi a inarcare spesso la schiena. E questo a volte può essere problematico, ci può dare fastidio. Quindi una cosa semplicissima che possiamo fare è poggiare una gamba soprattutto se siamo molto molto principianti oppure anche se magari c'è un giorno in cui abbiamo un dolore quindi abbiamo anche più dimestichezza con la pratica ma in quel particolare giorno sentiamo più fatica o più dolore quindi possiamo poggiare una gamba e muovere l'altra gamba in modo tale che la gamba di terra ci faccia da base di appoggio per mantenere la zona lombare comodamente a terra senza faticare troppo con la zona addominale quindi con tutta la regione addominale e lombare. Questo ci può aiutare anche a ridurre il carico di lavoro degli addominali quindi se per esempio sei incinta quindi non puoi affaticare eccessivamente la zona degli addominali invece di mantenere tutte e due le gambe sollevate ti consiglio vivamente di poggiare una gamba e continuare l'esplorazione con una gamba soltanto per volta. Quindi questo è il primo consiglio invece di due gambe sollevate poggia una gamba e alterna o comunque cambia poi il lavoro. Secondo consiglio un sacco di esercizi del pilate soprattutto degli esercizi originari di repertorio prevedono le gambe distese quindi per esempio abbiamo single leg stretch ok oppure double straight leg stretch ci sono tantissimi movimenti che prevedono un sacco di appunto posizioni con le gambe distese anche per esempio leg circle ok e questo ovviamente può anche essere un problema specie se non abbiamo particolare dimestichezza con i movimenti o se siamo più rigidi in alcune parti di noi. Quindi molto semplicemente in questi casi possiamo dalla posizione con le gambe distese che si ha con le gambe quindi sollevate distese in su oppure più avanti possiamo alleggerire il peso il carico sull'addome flettendo le ginocchia quindi ad esempio invece di distendere in avanti le gambe per esempio insieme possiamo portarle giù verso il basso piegate oppure addirittura distenderle verso l'alto evitando così di avere questa leva lunga questo peso delle gambe oppure se abbiamo la difficoltà della tensione nel retro della coscia possiamo flettere un pochino il ginocchio e continuare per esempio con i cerchi però con il ginocchio piegato leggermente anche per esempio in Handred l'esercizio originario di Handred prevede le gambe distese e non troppo lontane dal pavimento ma questo è molto intenso per l'addome quindi posso fare lo stesso movimento di Handred con le gambe piegate e questo faciliterà moltissimo il movimento o posso addirittura poggiare una gamba a terra quindi unire il primo e il secondo consiglio per migliorare la pratica del movimento terzo consiglio e questo riguarda soprattutto la regione cervicale molte persone fanno fatica a mantenere la testa sollevata da terra durante per esempio i vari addominali o i vari esercizi che possiamo trovare nel metodo Pilates specialmente quando la testa non è sostenuta dalle braccia ma è sospesa quindi quando per esempio Single Leg Stretch oppure Handred abbiamo la testa sospesa in questa posizione ovviamente qui un suggerimento è quello di procedere per gradi e di pian piano abituarsi mantenendo per poco tempo questa posizione e facendo pause più frequenti in modo da allenarsi anche a mantenere la posizione organizzare meglio il torace e il resto del corpo ma ci sono dei casi in cui questo non è proprio fattibile perché ci sono magari giramenti di testa oppure altri problemi più impegnativi anche emicrania altri tipi di problemi e quindi a questo punto un'alternativa è quella di poggiare la testa c'è però una considerazione da fare quindi se un esercizio prevede che io abbia la testa sollevata e che stia lavorando con le gambe per esempio distese in avanti se poggio la testa questo mi permetterà sì di rilassare la parte superiore del corpo ma mi darà meno facilità nell'attivazione dell'addome quindi nel tenere l'addome attivo durante il movimento quindi se la testa rimane poggiata nel movimento consiglio di distendere per esempio le gambe però più verso il soffitto quindi di ridurre l'angolo con cui lavoriamo con le gambe per poter comunque controllare meglio l'attivazione dell'addome e non creare una situazione invece in cui il peso delle gambe mi fa anche qui inarcare la schiena perché non ho abbastanza forza e controllo sull'addome quindi questi sono un po' i suggerimenti più semplici, più intuitivi che puoi però portare sempre con te in qualunque pratica, in qualunque lezione per poter rimanere all'interno della lezione senza soffrire e continuare quindi a muoverti a praticare senza però poi doverne subire delle conseguenze spiacevoli negative un altro consiglio comunque generale che ti do per poter appunto adattare la lezione alle tue esigenze è quella di ridurre il range di movimento quindi l'ampiezza del movimento e anche di ridurre il ritmo perché questi due parametri fanno molta molta differenza e quindi rallentando il movimento e rendendolo più piccolo potrai sentire pian piano fin dove puoi arrivare come organizzarti al meglio nel movimento per mantenere il respiro fluido e una pratica comunque confortevole e pian piano puoi migliorare a partire da questo ok quindi questi sono consigli proprio più generali per aiutarti a rispettare te stessa o te stesso durante la pratica e poi puoi sempre provare le varianti quindi piegare le gambe poggiare una gamba poggiare la testa o le combinazioni tra questi suggerimenti per rendere la lezione più adatta a te in quel momento spero di esserti stata utile con questi brevi consigli e ci vediamo al prossimo video ciao